Grazie a voi, la Lepre è partita per la corsa numero 37 e una bellissima partenza del numero 1 nell'interno, Sebo Sebo che si mette subito in testo davanti a Amelia, in seconda posizione sembra quasi ogni passo che fa che si allontano sul metro vitti questa gara, Sebo davanti a Amelia Grazie a tutti